a servizio Cosa Mernic per Milano il suo flop spinto, Rossar non benissimo Abubakar cerca di servire Saita che la regala a Milano vediamo come gestisce l'attacco la squadra di casa male e allora Vivo può organizzarsi con De Falco che tenta il pallonetto, ci arriva Ishikawa poi Basic vince la sfida a muro ma nuova occasione per i calabresi Rizzo a cercare De Falco che questa volta spara sulle mani del muro la tiene viva Cosa Mernic Sbertoli per Patry che sbaglia però la tiene viva nuova occasione per Milano di nuovo con Basic forte sulle mani del muro Rizzo tiene anche questa Abubakar contro il muro a tre Cosa Mernic, gran difesa che scambio incredibile poi Patry col pallonetto Saita difende Rizzo a cercare De Falco sul muro a tre De Falco fuori e Milano vince uno scambio lunghissimo bellissimo che bella pallavolo Giorgio che bella pallavolo non dovrei farlo ma mi faccio un applauso anche io a tutti i giocatori in campo perché un'azione veramente fabolosa queste sono le azioni che fanno passionare il pubblico la pallavolo bellissima questa azione questo scambio da ambo le parti grandissime difese abbiamo visto questa è la pallavolo questa è la pallavolo è la pallavolo Grazie a tutti.